Amici di non solo mare, siamo in Sicilia, a Palermo, in compagnia di Enza, che è il presidente del C-Club. Ricordiamo questa associazione sportiva che ogni anno, tra l'altro, tra le tante iniziative che voi organizzate, ma organizzate questa Palermo Ustica bellissima, questa tre giorni, dedicata a tutti quelli che sono appassionati di mare, che vogliono vivere tre giorni di evasione totale, di mare, libertà, natura, quest'anno si ripeterà per l'ennesima volta, ovviamente è diventata quasi una tradizione per chi abita qua, ma addirittura si stanno avvicinando anche da fuori quello che sono i confini della Sicilia, qualcuno sappiamo che si sta già informando, vorrebbero partecipare. È una bellissima manifestazione e sappiamo che state preparando anche qualche novità, perché poi, come ogni anno, cresce e chi già la frequenta tanti anni si aspetta poi qualche novità ogni volta. Intanto, ciao Francesco, è un piacere rincontrarti qui a Palermo. La serata è bellissima, la temperatura, lo sfondo, l'odore del mare. Peccato che gli amici che stanno guardando non possono sentire questo odore così intenso. Il connubio è sempre quello. Piras, Palermo, siamo pronti per partire. Voglio dire a tutti gli amici che ci conoscono e chi non ci conosce, anche se l'inverno ci oscura un po'. Inverno, inverno, non ci credete. Qua abbiamo 22 gradi, mi pare che sono le 10 e mezza, le 11 di sera. A Milano ci sono 5 gradi, insomma, inverno. Dico oscura un po' le nostre attività, nel senso che ci lasciano un po' nell'ombra, ma noi lavoriamo sempre, costantemente, per pensare stagione dopo stagione a cosa poter proporre ai nostri cari amici, ai nostri soci. Ma intanto diciamo, quando quest'anno sarà la Palermo Ustica? La Palermo Ustica quest'anno è prevista per il 5, 6 e 7 luglio. Come al solito è un venerdì, sabato e domenica, è un fine settimana. Sarà una tradizionale traversata, la facciamo da tanti anni, potrà sembrare banale, ma Ustica ci offre il mare, i fondali, la bella gente, il sole. Tutti coloro che amano condividere con noi questa esperienza, sono sicura che non mancheranno a far da cornice a questo nostro evento. Come ogni anno noi lavoriamo sodo, perché vogliamo offrire agli amici che ci vogliono seguire novità, ma novità che non devono essere cose... Non stravolgono quella che è la filosofia della manifestazione. No, assolutamente. Intanto partiamo, rispettiamo il mare, ci godiamo la bella stagione, ma vogliamo anche divertirci, condividere con gli altri quelle che sono le gioie di una spensieratezza, staccare per questo fine settimana un attimo il pensiero da tutto. E allora che dico? Dico agli nostri amici, preparate degli equipaggi molto vari, portate gente con voi, atletica, anche cominciate a rinfrescare un po' i vostri studi sulle patente nautiche. Insomma, vi metteremo un po' a dura prova. Oltre a avere una caratteristica che è quella di abituare anche un po' alla navigazione d'altura, per chi non è abituato, perché ricordiamo che sono sempre 35 miglia, quindi si imparano anche tante cose durante questa manifestazione. Quest'anno ci saranno poi qualche gioco che esce dalle caratteristiche, dalle nozioni marinaresche e si entra anche un po' in altre situazioni dove tutti gli equipaggi verranno coinvolti con i loro membri e poi insomma ci sarà qualcosa che non possiamo dire che poi darà ruogo a una sfida con un premio, con dei premi. Sicuramente, perché dobbiamo premiare a questi ragazzi che sono impegnati. Però io dico sì, c'è il gioco, ma il gioco non deve mai perdere di vista quello che è la conoscenza del mare, di tutto ciò che riguarda la sicurezza al mare. Quindi noi sotto forma di gioco, però diciamo alla gente venite preparati, sappiate che ci sono determinate cose che non possiamo mai tralasciare quando prendiamo il nostro mezzo e andiamo a mare, rispettando gli altri, rispettando l'ambiente. Quindi il nostro scopo è questo, dietro il gioco imparare, sempre imparare. E lo sapete, quando noi conosciamo gente nuova abbiamo finora sempre avuto esperienze di persone ben disposte, capiscono subito qual è lo spirito della nostra aggregazione, non vogliamo montarci la testa o creare eventi straordinari, ma nelle cose più semplici vogliamo divertirci. Noi l'anno scorso avevamo un battello che non a caso aveva un nome che si chiamava Ci accontentiamo di poco, sotto questo nome viene racchiuso un po' tutto, ci accontentiamo di poco. Con quel poco si dà luogo veramente a tre giorni che poi rimangono nella memoria, perché per chi non è mai stato a questa manifestazione la prima volta è sempre qualcosa che non vorrebbe più tornare a casa. Per chi c'è già stato è un appuntamento irrinunciabile per gli anni seguenti, insomma diventa anche difficile poi farci listare tutti, perché sappiamo che Ustica c'è un numero chiuso, più di tanto non si può andare. Esatto, la ricezione degli alberghi è limitata, noi vorremmo portare a tutti quelli che dicono vogliamo unirci, però giochiamo un po' sulla tempestività delle prenotazioni, è brutto dirsi, ma chi prima arriva bene alloggia. In questo caso è proprio vero, chi prima arriva meglio alloggia, perché gli altri poi cominciano a distribuirsi sull'isola. Diventa difficoltoso organizzare e gestire un gruppo sempre più numeroso, dico che ben venga, però dobbiamo star bene tutti e non dobbiamo invadere l'isola e creare sconfiglio nella loro tranquillità. Quindi rinnovo l'invito agli amici nostri del C-Club, tra l'altro con piacere ho appreso che quest'anno si aggregeranno a noi persone fuori dalla Sicilia, stiamo facendo un inter-club quasi, fra virgolette vorrei chiamarlo così, gente che ci conosce nel settore, vogliono passare questa esperienza con noi, siamo ben lieti di unirli a noi e vi aspettiamo a braccia aperte. Allora amici di Nostra Mare avete capito, il 5, il 6, il 7 luglio, questo primo weekend che arriverà, a breve perché ormai siamo alle porte di maggio, presto arriveremo a luglio, ci sarà questa classica Palermo-Ustica-Palermo, per chi sarà con noi sicuramente sarà ancora più bello, per chi non ci sarà non solo mare farà di tutto per raccontarvi, per farvi vivere quello che noi vivremo e racconteremo poi a voi insomma quelle che sono emozioni, momenti bellissimi che si passano soltanto quando si viene in terra siciliana perché qua la cultura è proprio quella di vivere il mare a 360 gradi sul serio con persone che hanno proprio voglia di divertirsi, voglia di vivere il mare in tutte le sue sfumature, quindi con Ensa e con tutti quelli che fanno parte del C-Club e anche quelli che poi si uniscono strada facendo, vivremo questi tre giorni fantastici, noi non ci resta che salutarvi con questo sfondo che ricordiamo dietro di noi c'è capo... Esattamente ci troviamo nel Golfo di Carini. Ecco, quindi dietro abbiamo il Golfo di Carini, noi presto ve lo faremo poi vivere questo golfo perché sarà sulla nostra strada, noi poi prenderemo il largo, punteremo Ustica e non mancate il 5, il 6, il 7 luglio per quanto ha già detto i posti sono limitati però qualcuno forse ancora in tempo Sì, 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 ma non... Siamo a trovare le sistemazioni... Quindi diciamo che nei prossimi 20 giorni c'è ancora un po' di spazio, poi probabilmente non ce ne sarà Siamo costretti a dire purtroppo abbiamo finito Big Ben poi chiude le porte Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale del 2004 A Napoli non esiste ancora un marina, si continua... Prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico Con... Con... A Napoli non esiste ancora un'impresa, anche per me chiude le porte... Grazie a tutti.